Meta Energia, gruppo attivo nel settore dell'energia elettrica e del gas, è nuovo partner istituzionale del Parma Calcio. L'accordo, presentato dall'amministratore delegato del Parma Pietro Leonardi e dal vicepresidente di Meta Energia Francesco Pizzo, punta a rafforzare il club giallo-blu e ad incrementare gli investimenti del club rivolti in particolare verso i giovani talenti. Per noi è un motivo d'orgoglio, lo dico anche a nome del presidente Chirardi, perché annoverare tra le nostre fila una partnership con una realtà così importante a livello nazionale è un motivo veramente d'orgoglio. Ci auguriamo che questo venga nel tempo sviluppato, noi dobbiamo dare sicuramente una positività a questo tipo di collaborazione e se diamo delle positività in tutti i sensi probabilmente si allarga questa partnership. Per il vicepresidente di Meta Energia Pizzo, la partnership con il Parma è vincente perché il club crede molto nei giovani e guarda al futuro, valori condivisi anche dal gruppo energetico, che ha un organico composto per il 70% da under 35 e da tempo è attivo sostenitore dello sport, che considera elemento indispensabile attraverso cui i giovani imparano a porsi obiettivi sani. Il Parma Calcio è una squadra importante, che ha dei principi etici che condividiamo, Meta Energia, d'altronde sin dall'inizio ha pensato e ha adottato questi metodi, guardare giovani al futuro, all'etica, quindi essere partner del Parma Calcio per noi è un grande onore e siamo contenti oggi di aver presentato con la squadra, con l'amministratore delegato Leonardo, questa unione. L'accordo prevede infine alcune iniziative del gruppo energetico, rivolte in particolare ai tifosi del Parma, con l'obiettivo di fornire servizi utili anche alla città.